destinando il tuo 5 per 1000 al comune di venezia contribuisci a finanziare il progetto occupabilità percorsi e opportunità presso cooperative sociali e piccole aziende rivolto a persone con disabilità altrimenti non occupabili avere un lavoro importante per essere riconosciuti i cittadini a tutti gli effetti e per una vera integrazione nella società in questo laboratorio si mettono alla prova le capacità individuali e si trova un riscontro del proprio lavoro qui i ragazzi si mettono alla prova con manzioni semplici adatte alla loro abilità essere riconosciuti e riconoscersi nella società attraverso un ruolo e un'identità di lavoratore mettersi in gioco con compiti adeguati alle loro capacità e in tempi adeguati alle loro caratteristiche per trovare un ruolo nella società con la propria identità di persona e lavoratore L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro Anche per me 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 Per tutti Grazie a tutti.